Noi, calciatori della Rosa della CR Messina, alla luce di quanto riportato dagli organi di stampa nei scorsi giorni, teniamo a precisare quanto segue. Sin dall'inizio della stagione tutti noi calciatori abbiamo affrontato allenamenti, partite e ogni altro impegno connesso alla nostra attività tenendo ben presente in ogni istante il valore, il prestigio e l'onore di indossare i colori giallorossi e rappresentare la città di Messina e i propri tifosi. Riteniamo di aver sempre operato con la massima professionalità, nonché rispettando i valori di etica sportiva essenziali per amare il gioco del calcio. Per questo siamo vivamente rammaricati di quanto acquaduto e, in particolare, a seguito di un pareggio in una gara così combattuta come quella con la Paganese. Della ridda di sospetti e veleni che fanno seguito ad un controllo di routine per un evento oggettivo a noi assolutamente strano, come il flusso di scommesse sportive sulla gara. Cogliamo l'occasione per esprimere la vicinanza all'amico e collega Alessandro Berardi, le cui doti morali e professionali non possono essere messe in discussione. Sicuri che quanto riportato dagli organi di stampa il riferimento alle interviste al Presidente è frutto di un'errata interpretazione. Ci ospichiamo di poter riprendere a viaggiare tutti insieme, con la società e l'intero staff, i tifosi e gli organi di informazione, verso l'unico obiettivo che ci spinge, portare i gloriosi colori giallorossi il più alto possibile. Grazie a tutti.